Ognuno deve dare quello che c'è dentro, io do la quantità e c'è chi dà invece la qualità. Hai rivelato forse il vero motivo per il quale stai andando via. Vogliamo ripeterlo al microfono? Il motivo è che io voglio troppo bene al Cagliari, quindi io mi spongo anche di prima persona andando contro me stesso, per sempre per il bene del Cagliari e per l'amore che ho per questa squadra, per questa gente, per questa città. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!